Tu scendi dalle stelle, un re del cielo, e vieni in una grotta, un freddo angelo, e vieni in una grotta. Madre, dalla a me, la porto io. Ti saluto, Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Non temere, Maria. Chi sei tu che conosci il mio nome? Tu hai trovato grazia presso Dio. Molto presto avrai un figlio, Maria, e lo chiamerai Gesù. Questo tuo figlio sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Come potrà accadere se non conosco uomo? Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su di te stenderà la sua ombra alla potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ma questo come sarà possibile? Nulla è impossibile, Dio. La tua parente Elisabetta nella vecchiaia ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Eccomi. Sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto.